La discoteca Avila di Rivalta è stata chiusa dal sindaco di Gazzola Simone Maserati che nella giornata di ieri ha firmato un'ordinanza che ne stoppa l'attività fino a quando non saranno adeguate le strutture considerate non a norma dai tecnici. Secondo le valutazioni della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo il locale non ha rispettato alcuni dei parametri di sicurezza richiesti quindi non può ospitare eventi con il pubblico. Ci siamo già attivati per sanare quanto dovuto spiegano i responsabili dell'Avila ma non sono opere che si possono fare in due giorni. Ci vorrà qualche settimana ma sicuramente a gennaio riapriremo. Per la serata di domani era prevista la festa degli studenti del liceo Gioia e del liceo Colombini con il rapper Dreyf Gold che avrebbe dovuto portare nella nostra provincia il suo tour Canaglia. Già 800 a quanto pare le prevendite vendute ma la serata non si potrà tenere all'Avila non è ancora chiaro se sarà spostata altrove o annullata. Non stiamo prendendo decisioni sull'onda di un'emozione ha commentato il prefetto Maurizio Falco riferendosi anche alla recente tragedia di Ancona ma con la massima tranquillità e in perfetta sintonia con il questore Pietro Stuni soprattutto se c'è di mezzo la sicurezza dei più giovani.